Cambio di palco, siamo arrivati al momento della semplicità e semplicità in matematica. Il prossimo ospite, come già vi annunciavo poco fa, è uno dei matematici e logici più celebri d'Italia, è un ficcante polemista anche, Pier Giorgio Di Freddi, che ultimamente ha scritto anche il suo ultimo libro per Rizzoli è La democrazia non esiste, critica matematica della ragione politica e anche una serie di podcast per Audible su grandi menti a confronto. Vogliamo parlare con lui proprio di semplicità in matematica, io non indugio oltre in una presentazione perché ha bisogno di pochissime parole e chiamo sul palco Pier Giorgio Di Freddi. Benvenuto sul palco del Warnex Fest, prego. Ovviamente, parlare di semplicità in matematica in generale può sembrare un po' strano, ma la matematica bisogna conoscerla, non necessariamente complessa, bisogna studiarla come qualsiasi altra cosa. Però la prima domanda che mi è venuta in mente preparando questa intervista è stata esiste una definizione di semplicità per la matematica? Ma in realtà le definizioni bisogna chiederle ai filosofi, non so se ne avete a disposizione o se ne avrete a disposizione. I matematici preferiscono farla vedere la semplicità, però se uno vuole cercare di definirla è ovvio che deve usare altri aggettivi che nessuno dei quali è equivalente alla semplicità, che però messi tutti insieme cercano di spiegare questo concetto. Quindi per esempio, non so, leggerezza, bellezza, grazia, convinzione per esempio, e soprattutto anche correttezza, perché poi è inutile, non si può essere semplici se si fanno le cose sbagliate. Anzi, credo che fosse Einstein che dicesse che bisogna rendere le cose il più semplici possibile, ma non semplici più del possibile. Quindi oltre un certo limite, cercare di semplificare le cose finisce poi di banalizzarle, diventa faciloneria, quindi è una cosa molto delicata, bisogna appunto, più che le definizioni, bisogna cercare di apprezzarla, imparare a farla, la semplicità. C'è la differenza tra semplicità e, diciamo, fatta una spiegazione sia semplice o semplicistica. E la differenza per esempio che c'è fra la divulgazione e la volgarizzazione. La divulgazione è un tentativo di rendere semplici cose che a volte sono magari un po' più complesse, però cercare di estrarne l'essenza e di darla in pasto, diciamo così, al pubblico che magari non è esperto di quelle particolari cose. Ma la volgarizzazione invece è rendere banali o addirittura distorcere, fingendo di renderle semplici, cose che invece possono essere semplificate fino ad un certo punto, ma non oltre però. E quello è il vero problema. E' quello a cui stiamo arrivando adesso, nel senso a livello di opinione pubblica, cerchiamo di rispondere a domande complesse con risposte molto molto semplici o viceversa. Non mi ero accorto che il tentativo di oggi è di rispondere alle domande. In realtà oggi si parla per slogan. Siamo nell'era di Twitter con i 140 caratteri. Ora, è vero che siamo a Firenze e a Firenze qualche secolo fa c'erano personaggi come Cavalcanti e Dante che si scambiavano tweet, nel senso che una terzina di Dante credo che sia meno di 140 caratteri. Quindi effettivamente se uno è un poeta può esprimere in maniera molto concisa dei concetti che possono apparire belli. Ma la matematica, la scienza o per esempio il decreto sull'economia e la finanza è difficile ridurli a 140 caratteri. E quando si cerca di farlo, allora lì veramente si banalizza e non si semplifica per nulla. Anzi, credo che si complichi poi la vita a coloro che verranno dopo e che i debiti dovranno pagarli. Quindi non temo. Parlando di matematica e semplicità, possiamo non citare una delle notizie che ha gettato il fermento nella comunità dei matematici mondiali perché qualche giorno fa c'è stato un celebre matematico, Michael Attia, che ha decretato di essere riuscito a dimostrare uno dei problemi del millennio, la congettura di Riemann, e di averlo fatto in modo molto molto semplice, presentando delle slide in un convegno e in attesa di una pubblicazione più corposa su una rivista con revisione dei pari. Che cos'è la congettura di Riemann? Anzitutto perché io non oso spiegarlo da non matematico, e c'è da fidarsi? Dunque la congettura di Riemann, per chi volesse veramente conoscerla, consiglio di andarla a leggere in un libro divulgativo che si chiama, non mi ricordo più come, perché è un libro di Des Sautois che è uscito una quindicina di anni fa, credo che fosse la musica dei numeri primi o qualcosa del genere, che Eco addirittura disse l'ho letto sulla spiaggia durante un'estate, eccetera, cosa di cui io dubito, l'avrà sfogliato, non so se poi l'ha letto, che è una cosa diversa da sfogliare. E in realtà, detta in due parole, ma che non dice che cos'è effettivamente la congettura di Riemann, ha a che fare con i numeri primi. I numeri primi si conoscono fin dall'antichità, non solo dai tempi dei Pitagorici, ma addirittura ci sono delle ossa incise che risalgono a 20-30 mila anni fa, che già riportano alcuni numeri primi, quindi evidentemente erano già stati notati. Però la cosa interessante è che se uno va a vedere e spulcia i numeri primi nella lista dei numeri interi, si accorge che questi numeri sono distribuiti in una maniera sicuramente non caotica, però abbastanza complicata da descrivere. È una distribuzione logaritmica, nel senso che diventano sempre meno, man mano che i numeri diventano più grandi, la quantità dei numeri, quindi ce n'è di più fino a 100 di quanto non ce ne sia, in proporzione fino a 1000 o fino a 10.000, eccetera. Però questa è una distribuzione non molto precisa, e la congettura di Riemann è un modo per cercare di rendere precisa la distribuzione dei numeri primi. Avrebbe delle grandi conseguenze per la matematica, è aperta da 150 anni, e Maiko Latia, anzitutto tu dici, c'è stato tumulto nella comunità dei matematici, in realtà è vero, il contrario, nessuno ne ha parlato perché tutti conoscono Maiko Latia, che è uno dei più grandi matematici viventi, ha preso tutti i premi che si potevano prendere, dalla medaglia Fields quando era giovane nel 66, al premio Abel, che è una specie di Oscar alla carriera nel 2003, quindi sicuramente non è, diciamo così, uno di questi dilettanti che ogni tanto cercano di dimostrare le congetture con idee balzane. Però è un uomo che forse ha fatto il suo tempo, ha 89 anni, è un po' di anni che ogni anno arriva con una nuova dimostrazione, l'altro anno per esempio, sempre ad Heidelberg, dove ero anch'io lo scorso anno, mi ha fatto vedere una dimostrazione di 12 pagine di un famoso teorema, che ha a che fare con i gruppi, la teoria dei gruppi, il teorema di Faith e Thompson, che aveva fatto epoca all'epoca, negli anni 70, quando fu dimostrato, perché richiedeva 250 pagine di dimostrazione. Mi ha fatto vedere una di 12 pagine, naturalmente quello non è il campo mio, gli ho chiesto, ma qualcuno ci crede? Lui dice, nessuno. Ma questo non significa che sia sbagliato, questo è vero. Però quest'anno con la congettura, con l'ipotesi di Riemann è ancora peggio, nel senso che addirittura l'ha derivata come corollario da un problema completamente diverso, in cui ha cercato di far vedere come una costante della fisica, che si chiama la costante di struttura fine, può essere derivata in maniera matematica, cosa molto sospetta, naturalmente. E infatti se uno guarda la registrazione, potete vederla, il meeting dei laureati, laureates, nel senso che hanno preso la medaglia Fields, di Heidelberg. C'è la registrazione, è una conferenza che per la maggior parte del tempo si può sentire, perché consiste di aneddoti sui numeri primi, fa vedere delle immagini. Poi a un certo punto fa vedere una diapositiva, in cui dice, questa è la dimostrazione, molto semplice, e però ovviamente nella discussione nessuno dei tanti luminari che erano presenti si è alzato, io credo che sia semplicemente un esempio di come diceva Hardy, un grande matematico inglese degli inizi del secolo scorso, che la matematica è uno sport da giovani. E quando, cioè richiede un'enorme concentrazione, è difficile, è assolutamente improbabile che una congettura di quel genere che ha impegnato i matematici per un secolo e mezzo, si dimostri con una slide e che gli venga tra l'altro come corollario di qualche cos'altro. Probabilmente quando si arriva a quell'età è beato lui che a 90 anni si diverte ancora a fare queste cose, invece di essere come molti di noi sono già oggi o saranno in futuro nelle nebbie del pensiero, però non credo che abbia più la forza anche fisica di controllare queste cose. Per fare un esempio, come paragone, quando fu risolto il teorema di Fermat, questa volta veramente, da Andrew Wiles, un problema che era aperto da 350 anni, Wiles anzitutto prima discusse questa dimostrazione con un suo amico che cercava di fare l'avvocato del diavolo. Quando uscì in pubblico fece una conferenza che durò tre giorni, tre consecutive conferenze a Cambridge in Inghilterra e quando poi si mise a scrivere la dimostrazione trovò un errore, quindi era finito ormai sulla prima pagina del New York Times e quindi per due anni dovete cercare di ripararla e finalmente ci riuscì. Questo è quello che uno si aspetta per una congettura di quel genere, semplificare un conto ma non certamente una paginetta. È molto difficile che tutte le dimostrazioni lunga una paginetta sono già state fatte, quindi ormai non ci si può più aspettare nulla di così semplice. Purtroppo. E oltretutto infatti se la prendeva molto con l'idea che un matematico dovesse essere molto più produttivo diciamo prima dei 40 anni e che poi la sua produttività e il suo genio calasse. Infatti ho dimenticato di dire che la medaglia Fields viene data soltanto fino ai 40 anni. Anzi, questo signor Wiles che appunto dimostrò il teorema di Fermano nel 93, all'epoca aveva 39 anni, ma quando poi pubblicò la versione rivista nel 95 e ne aveva 41 non prese la medaglia Fields però nel caso suo gli diedero una targa speciale ad honorem quindi ovviamente quello è un caso speciale. Ma c'è qualche cosa di vero nel fatto che bisogna essere poi ci sono anche matematici che sono stati produttivi fino alla fine e lo stesso caso di Atia dimostra che uno può arrivare a 90 anni e fare della matematica però insomma riuscire è come fare uno sport è molto improbabile che uno che ha vinto i 100 metri all'Olimpiadi poi dopo ritorni quando ha 70 anni e continui a vincere può vincere l'Olimpiadi dei 70 anni ma quella è un'altra cosa purtroppo non c'è una matematica dei 70 anni una matematica dei 90 anni ce n'è una sola che deve essere giusta o sbagliata quindi corretta o sbagliata oltretutto l'ultima medaglia Filz è anche un italiano un giovane matematico italiano che anche lui adesso è finito il meeting è finito ieri quindi Figalli che è uno dei noi il secondo italiano tra l'altro che vince la medaglia dopo Bombieri che la vinse quasi 45 anni fa quindi tutti venendo dalla stessa scuola tra l'altro questo è molto interessante perché Figalli arriva dalla scuola normale di Pisa anche Bombieri era passato di lì sono tutti in qualche modo allievi di un grande matematico italiano che si chiamava De Giorgi che stava anche lui ovviamente era normale di Pisa che non vinse la medaglia Filz nel 58 per un motivo strano perché trovò un risultato corretto questa volta ma lo trovò indipendentemente più o meno nello stesso periodo in cui l'aveva trovato John Nash il famoso Beautiful Mind quello del film e poiché l'avevano trovato in due ciascuno da solo l'avrebbe vinta ma in due insomma non la diedero né a uno né all'altro Nash uscì di testa e successe quello che tutti avete visto nel film Beautiful Mind e però De Giorgi non la vinse quindi in un certo senso è un po' una rivendicazione di questa scuola che ha avuto due medaglia Filz e una non assegnata ma insomma che in fondo si sarebbe potuta dare passando sul lato della saggistica l'ultimo libro per Rizzoli è intitolato La democrazia non esiste una prospettiva abbastanza pessimistica o semplicemente realistica? no pessimistica sarebbe come uno che dice guarda no le cose potrebbero andare meglio e invece vanno così ma il motivo per cui ho scritto quel libro infatti il sottotitolo che è un po' più vicino al contenuto del libro è critica matematica della ragione politica e che non queste non sono opinioni politiche in cui ciascuno dice la sua e siamo tutti contenti ed è difficile smentirsi a vicenda io parlo di teoremi veri e propri che sono stati dimostrati a proposito della democrazia a partire già dal settecento perché la cosa non è nuova il tentativo di applicare la matematica non soltanto alle scienze della natura come la fisica o la chimica eccetera ma addirittura alle scienze umane è un tentativo che risale a secoli fa e furono i francesi quando stava per arrivare alla rivoluzione francese che capirono che bisognava per esempio preoccuparsi di come fare le leggi elettorali e a chi affidarono questo compito noi l'abbiamo affidata a politici spesso anche poco competenti e invece loro l'affidarono a fior di matematici in particolare a un signore che si chiamava Bordà e a un marchese che era un famoso marchese di Condorcet e furono loro i primi a scoprire che c'erano dei problemi con le leggi elettorali perché a seconda di come si stabiliscono le regole poi si fa vincere uno oppure un altro ed è quello che i politici sanno benissimo loro cercavano non tanto di fare quello che fanno i politici cioè di fare la miglior legge elettorale per il proprio partito o per se stessi bensì di farne una che avesse delle caratteristiche razionali e quindi di fare un'analisi razionale di quali erano le aspettative che si dovevano avere nei confronti delle leggi elettorali in particolare ma della democrazia più in generale e di vedere se era possibile dimostrare un teorema che ci dicesse qual era la miglior legge elettorale se ci fossero riusciti avrebbero risolto il problema purtroppo dimostrarono che non esiste una tal legge elettorale che ci sono qualunque sistema che uno voglia usare ci sono sempre dei possibili paradossi che possono intervenire infatti il marchese di Condorcet divenne famoso per un paradosso che porta il suo nome e queste cose poi sono arrivate negli anni 50 del 900 nelle mani di un signore che si chiamava Kenneth Arrow che è uno dei grandi economisti dello scorso secolo e lui dimostrò un teorema che detto in soldoni semplificando al massimo si può enunciare come il titolo del libro cioè la democrazia non esiste cosa significa quello detto un po' meno in soldoni significa che noi abbiamo in testa quando parliamo di democrazia alcune caratteristiche fondamentali alcune proprietà e lui ne ha enunciato tre o quattro e ha fatto vedere che quelle tre o quattro proprietà insieme non possono stare perché sono contradditorie e allora bisogna farne cadere qualcuna lì è nata tutta la teoria delle scienze sociali lui ha preso il premio Nobel per l'economia nel 72 è uno dei primi premio Nobel per l'economia perché il premio Nobel per l'economia non era stato dato da Nobel stesso e quindi fu introdotto nel 69 lui lo prese quasi subito era uno dei grandi e poi ci furono altri per esempio Amartya Sen che è ancora vivo è considerato il più grande filosofo sociale e vivente è un indiano di nascita e anche di nazionalità perché ha sempre mantenuto la cittadinanza indiana anche lui ha preso il premio Nobel più recentemente negli anni 90 lui ha dimostrato addirittura una cosa interessante cioè che la democrazia e i diritti sono incompatibili fra loro quando uno dà una definizione precisa di diritto e allora si accorge che le cose non vanno bene insieme con la democrazia faccio un esempio tanto per non lasciare le cose in astratto uno dei diritti fondamentali che le democrazie ritengono e dicono di difendere anzitutto in genere si identifica la democrazia con i diritti si dice esportiamo la democrazia perché vogliamo tutelare i diritti ma il principale diritto che viene tutelato nelle nostre democrazie occidentali è ovviamente quello di proprietà ora qualche mese fa due o tre mesi fa sono usciti i nuovi rapporti Oxfam che escono ogni anno e che dicono come è distribuita la ricchezza nel mondo la cosa interessante anche se tragica ci dice quest'ultimo rapporto che l'1% della popolazione mondiale un 1% della popolazione mondiale ha la stessa ricchezza del rimanente 99% cioè la ricchezza mondiale è divisa in due parti una parte se la prende l'1% della popolazione l'altra parte se la prende il 99% ora supponiamo di agire democraticamente di fare un referendum mondiale in cui chiediamo alla popolazione volete spropriare quell'1% di quello che ha e distribuirlo fra voi cioè in altre parole volete raddoppiare la vostra ricchezza togliendola da una piccola parte della popolazione è ovvio che quel referendum prenderebbe il 99% dei voti sarebbe una maggioranza bulgara come non si è mai vista se non appunto in Bulgaria sarebbe perfettamente democratico perché da noi in realtà poi governa chi ha una minoranza quindi 99% e però il diritto di proprietà di quell'1% verrebbe messo non solo in forze ma sarebbe cancellato e quindi si vede questo è un esempio naturalmente non è la dimostrazione che i diritti e la democrazia sono incompatibili ma a Martia Sen la dimostrazione è la data tra l'altro volevo anche sottolineare il fatto che sempre a proposito della distribuzione della proprietà 8 persone al mondo 8 persone al mondo di cui 7 erano elettori di Hillary Clinton 8 persone al mondo hanno la stessa ricchezza della seconda metà del mondo cioè di 3 miliardi e mezzo dei 3 miliardi e mezzo poveri diciamo così del mondo ora questa è una sproporzione tremenda cioè che 8 persone equivalgano dal punto di vista di ciò che hanno a 3 miliardi e mezzo fa capire che c'è qualcosa che non funziona in quello che si chiama democrazia e allora anche un titolo un po' così tranciante non è mio appunto io l'avevo intitolato il fantasma della democrazia in maniera un po' più bugnuelliana e anche un titolo come quello fa capire che forse dietro a questo fantasma a questa parola diciamo così metafisica quasi si nascondono spesso cose che sono completamente diverse quindi una riflessione sulla democrazia credo che sia non solo utile ma necessaria e purtroppo però i tempi non sono adatti per fare queste riflessioni perché in genere ormai si parla per slogan addirittura per esempio abbiamo visto l'altro giorno i ministri grillini che escono sul balcone di Palazzo Chigi esultanti perché hanno fatto una legge o perlomeno un decreto legge in cui hanno sforato il debito e hanno portato alcune decine di miliardi di euro in più a questo debito che già sta salendo in maniera incontrollata e questo non è il modo di fare però il dibattito politico indipendentemente da chi lo faccia intendiamoci non è che poi altri partiti siano meglio infatti le mie critiche andavano in maniera equanime anche a coloro che c'erano prima ma in questo momento quindi pensi che la politica sia abbastanza sorda diciamo a questa parte della scienza che potrebbe non tanto dare delle soluzioni ma quantomeno anche far presenti semplicemente i problemi non sono sorda ma per esempio Di Maio l'altro giorno ha detto non vogliamo farci influenzare dei numeri beh questo è proprio una dichiarazione sarebbe come se uno ma tra l'altro è vero che uno può ridere ma sarebbe come se uno si affacciasse al balcone e poi dicesse adesso mi butto giù e non voglio farmi influenzare dalla legge di gravità va bene puoi farlo però non è che la legge di gravità poi ti impedisce di cadere quindi le cose stanno così tra l'altro tu dici sordità la legislazione la legislatura precedente quella tra il 2013 e il 2018 è stata la prima legislatura dalla proclamazione del regno d'Italia non della Repubblica quindi dal 1861 in cui la maggioranza sia della Camera che del Senato era fatta di deputati e senatori non laureati ora a proposito di che cosa uno sta a sentire effettivamente quando si arriva a questo livello non c'è niente di male a non essere laureati però ci sono cose tecniche che non si possono mettere in mano a qualcuno che non ha l'esperienza tecnica è come salire su un aereo e si trova dice lei è un pilota no ma non vorrete discriminarmi e forse sì perché insomma quando uno guida un aereo non è una questione personale e purtroppo adesso non è così grave perché è leggermente salita la percentuale però sono circa il 50% nel regno d'Italia succedeva esattamente il contrario stranamente per esempio il Senato era fatto di persone anzitutto era un Senato a vita quando si andava in Senato si erano eletti o nominati a vita e spessissimo centravano per esempio di diritto i presidenti dell'Accademia delle Scienze sia di Torino che dei lincei diventavano senatori a vita Volterra per esempio che fu uno degli esempi fulgidi di antifascismo e di grande matematico fu uno di quelli e oggi invece i senatori a vita sono cinque di cui quasi sempre sono politici i rappresentanti e forse avere un Senato e una Camera che fossero l'espressione della cultura non solo scientifica ma anche umanistica sarebbe molto meglio che non portare quello che diceva Lenin la cuoca al potere la cuoca al potere di nuovo è lo stesso problema del pilota di aereo e così via e proprio di competenza scienza e in Parlamento parleremo domani con la Senatrice a vita e scienziata Elna Cattaneo proprio qui su questo palco del Warnix Fest io in ogni caso su queste note ringrazio molto questo ottimismo ottimista per Giorgio Di Freddi per essere stato qui con noi al Warnix Fest e voi per averci seguito grazie